Buon sconto sul soggiorno in hotel per combattere la crisi. Un'idea che arriva per la prima volta in riviera e coinvolge gli alberghi della costa dai lì di Ravennati a Gabice Mare. A lanciarla la web agency riminese Infoalberghi SRL che conta tra i suoi clienti 780 alberghi di diverse categorie. Uno strumento che offre agli utenti una possibilità di risparmio e agli alberghi di promuoversi online sfruttando l'appeal contemporaneo dei coupon. L'idea è stata fatta per aiutare i nostri alberghi ad avere più visibilità. Abbiamo pensato che un'idea nuova che al momento non esiste non solo in riviera ma non esiste in Italia potesse attirare ulteriori utenti. Abbiamo studiato, analizzato un attimo il web, il mercato in questo particolare momento di crisi e i coupon buon sconto cominciano ad avere tantissimo appeal negli utenti online. Siccome non esisteva questa soluzione per gli alberghi in Italia li abbiamo presa e l'abbiamo adattata al turismo della riviera romagnola. Da alcuni addetti nel settore del turismo arrivano però anche le critiche per il rischio di dequalificazione dell'offerta. Sta di fatto che ad una settimana dall'attivazione sono circa 100 i coupon attivi e quindi gli alberghi coinvolti. A differenza però dei più famosi siti di social shopping l'utente non acquista. Scarica e stampa il coupon che non costituisce una prenotazione ma dà diritto a uno sconto in hotelle dai 20 agli 80 euro in media per soggiorno. Io quest'anno ho attivato un coupon per il periodo di maggio e di giugno e spero che questo riesca ad attirare molta gente verso l'apertura del nostro albergo per il periodo iniziale. Penso che sia uno strumento importante, uno dei tanti che in questo periodo di crisi in cui la gente ha bisogno di risparmiare, bisogno di offerte più competitive possa aiutare a fare un po' meglio.